Savona News incontra i professori Sergio Olivotti, Luca Saggini e Cristina Bottino dell'Ipsia di Finale Ligure. Siete giunti a un traguardo importante di collaborazione con l'amministrazione. Quanto lavoro c'è stato dietro? Chi vuole iniziare a raccontarci l'esperienza? È un lavoro che è iniziato l'anno scorso. Infatti alcuni dei poster che vediamo appesi appartengono a ragazzi che non sono più della nostra scuola, nel senso che li sono stati maturati l'anno scorso, c'è un filo conduttore che è banalmente il bianco-nero perché comunque volevamo lasciare abbastanza libertà d'azione ai ragazzi, cosa che di solito non facciamo ma in questo specifico brief, in questo specifico contesto abbiamo dato un po' carta bianca. Sì, poi i ragazzi hanno scelto delle tematiche a loro piacimento, si sono ispirati a differenti artisti sia per stile che come tema e quindi abbiamo anche una varietà di illustrazioni che arricchisce senz'altro questa galleria. E con la possibilità di continuare il lavoro anche in futuro, anche negli anni successivi sempre sulla stessa falsarica oppure cambiando anche progetti.